Il primo gol con la maglia del Bari, un gol che poi ha portato anche i tre punti grazie a un'altra torrezza, quella di Galante. Sì, oggi è stata una partita difficile, difficile perché comunque l'abbiamo preparata tutta la settimana. Sapevamo che di trovare una squadra che si difende bene, si chiude bene, riparte alla grande, quindi non era facile. Abbiamo portato a casa la vittoria, che è quello che serviva, anche se a volte magari si gioca peggio di altre partite, però il risultato è stato quello che volevamo oggi. Non è facile ogni domenica affrontare squadre che devi vincere, perché comunque a differenza di altre piazze qui ci sono pressioni importanti e porti uno stampa importante. Il primo gol con una maglia fa sempre un certo effetto? No, ho trovato un'emozione che non provo da parecchi anni, pure quando stavo a Napoli. La gente ha voglia di fare qualcosa di bello e noi uguali, quindi penso che se riusciamo a trasmettere alla gente quello che noi portiamo in campo è un gran risultato. D'altronde lo avevi detto anche in serie di presentazioni, il Bari si aggrappa a me, ti avevamo chiesto tu, anche io mi aggrappo al Bari. Lo ripeto, io ho bisogno della gente di Bari e Bari ha bisogno della gente di me e io veramente sono orgoglioso di indossare questa maglia. È stata una scelta senza nemmeno pensarci, perché comunque come è Bari è Bari, non è altre piazze.